Si faceva chiamare il conte ma in realtà era un truffatore professionista, pregiudicato in regime di detenzione domiciliare. Così finito nei guai un cinquantenne che con la complicità della moglie aveva truffato una nota azienda ora faretina, sottraendo un anello trilogy dal valore di oltre 10.000 euro. Gli investigatori della squadra mobile di Arezzo in pochi giorni hanno infatti ricostruito la dinamica del raggiro e individuata la vecchia conoscenza della questura già più volte condannata per truffa ed altri reati contro il patrimonio hanno proceduto alla perquisizione dell'abitazione. L'uomo ha così subito consegnato il gioiello in questione. La tecnica della truffa era stata da manuale, l'uomo infatti fingendosi un avvocato di fama aveva commissionato alla ditta ora fa il trilogy e in corso di trattativa poi aveva richiesto anche la realizzazione di un altro anello con un diamante del valore di circa 4.000 euro consegnando come caparra per entrambi gli acquisti un assegno regolarmente incassato di 4.500 euro. Al momento di ritirare i due anelli ha presentato un bonifico per la differenza ancora da saldare che il giorno successivo ha però provveduto a revocare. Tutto questo il truffatore lo ha portato a termine durante le fasce orari in cui era stato ammesso ad uscire di casa dove doveva scontare il regime di detenzione domiciliare una vecchia condanna. Recuperata la refurtiva l'uomo è stato denunciato a piede libero alla procura di Arezzo ed è partita immediatamente anche la segnalazione al tribunale di sorveglianza per le opportune valutazioni sul regime di detenzione.